Allora, siamo Maria Grazia, Roberta e Angela e oggi faremo la recensione sul nostro paese. Questi sono i giardinetti dove molta gente ci si raduna. È una sottospiace di piazzetta. Come mattina non c'è sta nessuno. Eh, molti bambini. No, vabbè, qualche bambino, anziani. Senti, si scivola. Tu? Dov'hai? Sì, poi qui stanno queste due panchinette e qui c'è un bar dall'altra parte. Scendendo. Questa è la piazza. Questo è il punto pericolo dove noi giochiamo e c'è il rischio di una pallonata molto forte. Simona e Valentina. Simona e Valentina, salutate! E giocano a pallone. Cosa chiamiamo fare? Questa è tutta la piazza. Il comune. Marcellina. Qui è un altro punto dove giocare con il pallone, ma ci mettiamo i bambini. Poi qui ci sono le scalette. Adesso non scendiamo. Sono le scalette di qua e di là con il bar centrale. Il bar dei vecchi. Dei vecchietti. Poi lì giù c'è un altro bar che non si vede bene. C'è una profumeria. Profumeria. Lì la pizzeria è l'edicola. Lì c'è un'altra pizzeria, il sombrero. E qui, passando da qui, giochiamo a passeggi alti con il pallone. A palleggi alti con il pallone. No, passeggi. Che cazzo dici? Passeggi, palleggi. La tabacchere è lì. Passaggi. E questo è il bar Roxy dove noi usciamo con i nostri amici. Adesso scendiamo da qui. Sì. E faremo vedere tutta la strada. Già l'ho detto? Non l'hai detto. Ecco dove comprare un qualche vestitino carino. Adesso qui, questa è la strada per Piazza Padella che è una piccola piazzetta dove noi ci ragioniamo con Roberta e Valentina che adesso non c'è, che abitano lì. Anche Maria Grazia. Adesso, come vi avevo già detto, la profumeria, il bar centrale. Ecco le scalette con la Madonnina, no? Le tagliamo da qua. Poi c'è l'edicola, la pizzeria. Lì c'era la lavanderia e lì gli alimentari. C'è l'edicola.